La rovella storica di Moscufo è stata condannata a morte. Questa è la denuncia delle associazioni di categoria che stanno provando in tutti i modi a far desistere ANAS dalla scelta illogica di abbattere una quercia secolare lungo la statale 151 che collega l'area metropolitana di Pescara all'area Vestina. Stiamo parlando di una delle strade più pericolose trafficate d'Abruzzo dove in passato non sono mancati incidenti, spesso mortali. C'è il rischio che nel caso di succedere un incidente dopo l'abbattimento e con questa rotatoria noi le associazioni ambientaliste Italia Nostra di Pescara e così via ci costituiamo parte civile per chiedere i danni. Il tutto nasce a seguito della volontà da parte della società che si occupa delle infrastrutture stradali di realizzare un'oratotoria tra viale Kennedy e l'ingresso per la zona industriale. Un progetto denunciano le associazioni fittizio senza pareri economici oltre che di pericolosità dell'infrastruttura. Il cartello di cantiere tra l'altro è comparso solo a seguito della richiesta delle associazioni. che non risponda alle normative e ai requisiti che devono avere le rotatorie, che devono essere elementi di sicurezza, sta infatti completamente esterno rispetto alla strada e dà fastidio a un albero perché probabilmente si rendano conto che qualcuno perderà il controllo della macchina, andrà qui sopra. Allora per non avere un ostacolo togliamo l'albero. L'albero intanto ha già subito la totale cementificazione del suo spazio vitale fino al colletto eliminando ogni centimetro di terra. Produce un habitat per la vifauna, produce comunque ombra in un periodo abbastanza caldo. Quindi noi abbiamo chiesto un tavolo tecnico all'ANAS per poter discutere insieme di eventuali soluzioni per il salvataggio di un albero così importante, ma non siamo stati presi in considerazione. Grazie.